In Italia, quasi 7 milioni di donne hanno affrontato una forma di violenza nel corso della loro vita. Il 21% ha subito atti di violenza sessuale. Una donna su 5. 1, 2, 3, 4, 5. Una donna su 10 ha subito un atto di violenza sessuale prima dei 16 anni. Una donna su 20 è stata vittima di uno stupro o tentato stupro. E più della metà di questi è stato commesso da un partner attuale o precedente. Rispetto a 10 anni fa, i casi di violenza sessuale sono diminuiti. E le denunce alle forze dell'ordine sono aumentate. Anche grazie a campagne come questa. Ma non è ancora abbastanza. Siamo tutti responsabili del cambiamento. Il 27 maggio è il denim de lei. Indossa i tuoi denim. E aiutaci a fermare la violenza.